libretà ben un herren e scena un guten abend adler 19 185 marco lazio club monaco dal cuore della baviera amici miei amici miei amici miei amici miei iscrivetevi al canale fatelo perché mi piace sempre tanto dillo e non solo perché iscrivendovi al canale sostenete il lavoro del lazio club mince di quello che faccio io e tutti gli amici che intervengono su questa pagina che fanno parte di questa grande famiglia appunto qui nel cuore della baviera e ragazzi che aspettative ci avevamo nel senso io non posso dire che prima della partita mi aspettavo una grandissima vittoria della lazio non vengo qui a dire e beh ma dai andiamo a san siro contro l'inter campione d'italia e pretendente allo scudetto nonché prima squadra in classifica e andiamo lì ad asfaltarli non non è un'aspettativa che ci avevo non è una cosa che mi aspettavo non pensavo che la lazio avrebbe potuto raggiungere un risultato tondo in casa dell'inter ovvio ci speri sempre se no che ti fia fa che è inutile che ti fisi se tanto parti già sconfitto perché non si parte mai sconfitti guardate vi dirò a inizio partita quello che era spesso esci con un punto da san siro hai fatto il tuo ho perso 2 a 1 ci può stare ci può sta perché l'inter è più forte di te perché l'ha fatto anche in corso d'opera è una squadra superiore a te in tutto e per tutto lo se vede nei cambi che fanno che loro mettono gioco e correa noi perché abbiamo messo anche luis alberto ma zac canni stesso che da quella parte io mi chiedo perché non giochi titolare con un felipe anderson in queste condizioni che nel video precedente post lazio empoli avevo anche esaltato felipe anderson perché mi era piaciuto rispetto alle prestazioni che aveva mostrato negli ultimi tempi oggi zero carbonella oggi a fin di primo tempo sembrava avessimo giocato in 10 con tutto il bene che voglio a felippetto e ricadiamo sempre negli stessi errori siamo sempre figli della stessa melma siamo sempre torniamo sempre sui stessi discorsi ed è uno solo il discorso principale che faccio al di là di quelle che sono le carenze a livello tecnico ok perché è evidente che questa squadra nonostante la prestazione sufficiente parer mio de stefan radu che forse al centro della difesa meriterebbe un po di costanza visti anche le difficoltà dei nostri centrali non dico che adesso hai perso a cerbi e radu diventa titolare perché serve un difensore centrale ragazzi non questo è inequivocabile però rispetto allo scempio che mi ha fatto vede con verona o lo scempio mi fa vede padre con i volte che c'è in campo a sto punto me tengo radu fa il centrale ma questo è un altro paio di maniche questa squadra manca e lo dico per l'ennesima volta perché nel corso dell'ultima stagione e l'ho detto anche verso la fine dell'altra stagione quindi il discorso allenatore c'entra e non c'entra è una squadra che manca di coraggio è una squadra che manca di carattere cioè la lazio oggi nei primi 20 25 minuti è una squadra che è scesa in campo dicendo ma ma tanto loro sono più forti che possiamo fare noi loro sono più forti di noi io non gli posso fare niente e mi pettino la barba mentre lo dico perché mi senta la barba in me ragazzi è questa l'impressione che ha dato la lazio nei primi minuti del gioco forse fino alla fine del primo tempo abbiamo sempre avuto questa impressione che loro fossero superiori a noi e quindi il gol fosse frutto della casualità nel secondo tempo si è visto qualcosa di più indubbiamente soprattutto dal punto di vista caratteriale ma abbiamo sempre questo grosso limite caratteriale ho detto un'altra volta scusate abbiamo sempre questo grosso punto di domanda che ogni volta che entri in campo ti chiedi oh mio dio ogni volta che subisci un gol e ti squagli ti sciogli come neve al sole con l'Empoli per esempio dopo il secondo gol dopo che hai preso 2 con 7 minuti in casa dall'Empoli ti sei dato una scossa e hai detto oh ma io sono la lazio sto già in casa con l'Empoli e sei riuscito a fare qualcosa ma tornando a un discorso che fa parte di tutto l'escursus del campionato i punti che tu hai perso lungo la strada non so quelli che tu perdi a Milano con l'Inter che ci può stare come dicevo prima ma io penso ai numerosi e i numerosissimi Udinese Cagliari, Sassuolo, Empoli stesso l'ultimo e non importante, Verona, Bologna squadre che per carità di Dio ne poi vincite tutte perché altrimenti staresti a comprare con lo scudetto ok ma hai perso dei punti strada facendo con queste squadre che erano ampliamente alla tua portata perché sei più forte di queste menzionate quindi io stasera vivo questa sconfitta con l'Inter con la rabbia di un tifoso che ha visto la sua squadra perde della squadra che magari avrebbe potuto da di più a livello di carattere ma mi incazzo ancora di più pensando a tutti i punti che ho perso in giro durante questo campionato sempre premettendo come ho detto prima che non li dovevi vincere tutte ma c'è una delle partite che avresti potuto pareggiare e avresti potuto vincere vincere Udinese Cagliari in casa pareggiare e Bologna-Verona fuori casa dove l'hanno fatto 7 con 2 l'hanno fatto ma va bene però ecco è una stagione così purtroppo non è una giustificazione non è un creare alibi non ci sono alibi però nel complesso Merode se penso che oggi avrebbe potuto stare 3, 4, 5, 6 punti più avanti rispetto a quelli che ho e oggi avrei potuto dire con l'Inter c'è sta che vada a sanzione con l'Inter c'è sta che vada a sanzione con l'Inter e perde però l'avrei fatto con qualche punticino di più in tasca l'avrei fatto con una posizione di classifica diversa rispetto a quella che adesso si sta complicando davvero tanto per noi ragazzi e bisognerà fare un rincorso importante per centrare l'Europa League perché la Champions League scordate vada proprio non è proprio cosa per noi ma è abbastanza chiaro che ci sono squadre molto più attrezzate della nostra parola in Champions League noi dobbiamo lottare per l'obiettivo Europa League e va bene così quest'anno lo sappiamo fosse stato così sarebbe stato così sabato c'è la Salernitana sulla carta una squadra che possiamo affrontare la grande possiamo rialzare la testa e torna a fare punti perché poi la settimana dopo ragazzi viene l'Atalanta che ne è che viene qua regalati i punti quindi bisogna riprendere a vincere perché poi lo sapete meglio di me la vittoria è una cosa che aiuta un processo anche mentale che magari devo portare a affrontare l'Atalanta con uno spirito diverso quindi è fondamentale sabato pomeriggio andare a Salerno sabato che non me la posso manco vedere perché devo lavorare devo quindi il video lo faccio comunque mi invento qualcosa magari durante il lavoro mi metto il telefono lì ma sento non so qualcosa mi invento però ecco bisogna assolutamente tirar su la testa perché è cominciato il 2022 con un punto in due partite e ripeto stasera ci può stare la sconfitta non ci doveva stare il pareggio con l'Empoli lo scorso giovedì rialziamo la testa contro la Salernitana perché è fondamentale detto questo ragazzi io non so più che dirvi amaramente sconsolato vi rimando alla prossima settimana e vi ricordo che non è importante dove voi siate non è importante in quale città paese stato del mondo vi troviate perché la cosa più importante ragazzi è sempre e solo Forza Lazio Forza Lazio